Grazie Presidente, intervengo rapidissimamente per ricordare quello che di fatto ho già detto in occasione dell'illustrazione, ovvero siamo a votare oggi un aggiornamento al regolamento che abbiamo approvato nel 2018 che introduce una novità molto importante, ovvero approviamo per la prima volta, questo nella storia dei centri sportivi municipali, approviamo un elenco di tutte le palestre scolastiche e dei campi esterni esistenti oggi sul territorio di Roma, che sarà ovviamente uno strumento molto utile soprattutto in vista della programmazione futura, l'obiettivo ricordo dell'ente è quello di mettere a disposizione il maggior numero possibile di questi spazi affinché le associazioni possano utilizzarli per offrire i propri corsi e quindi anche per quanto riguarda il ruolo che avranno i prossimi consiglieri, poter chiedere alle strutture qual è il numero di corsi che sono stati attivati con riferimento all'universo che finalmente oggi conosciamo potrà essere importante per capire l'efficacia degli avvisi pubblici che vengono emanati di anno in anno da parte dei municipi e quindi governare al meglio il servizio. Grazie.